Avevano preso di mira i negozi del centro commerciale Fano Center, le tre bande distinte tra loro sgominate dagli agenti del commissariato di Fano. I poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Seretti sono riusciti a rintracciare tutti i componenti grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza presente in città attivate dal comando dei vigili urbani. Fondamentale anche la collaborazione delle agenzie di sicurezza che operano nel quartiere di Bellocchi. In particolare la prima banda composta da soggetti provenienti dal Sud America è stata accolta nella flagranza di reato lo scorso mese di luglio all'interno del centro commerciale. I due ladri che avevano asportato occhiali e merce varia per un valore di 15.000 euro dopo un inseguimento in auto terminato a Pesaro erano stati bloccati mentre il terzo si era dato alla fuga. Le successive indagini hanno portato all'identificazione dell'ultimo componente, anche egli sudamericano, che rintracciato a Roma nei giorni scorsi è stato arrestato su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pesaro. La seconda banda invece era formata da due rumeni che ad agosto avevano rubato numerosi articoli griffati all'interno del Fano Center. Bloccati dagli agenti al casello autostradale, i due stranieri sono finiti in manette. Infine il terzo gruppo è composto da una ragazza di 20 anni residente a Orbino e da un 25enne macedone che ospitava in casa. Sono ritenuti irresponsabili di numerosi furti, di capi di abbigliamento griffati consumati in più occasioni all'interno della stessa galleria. Durante la perquisizione effettuata nella loro abitazione è stata recuperata la merce per un valore di circa 500 euro. Secondo il modus operandi ricostruito dai poliziotti, la giovane, dopo aver prelevato i vestiti dagli espositori con la scusa di provarli, entrava nei camerini. Qui veniva raggiunta dal complice che rompeva con le mani i sistemi antitaccheggio e nascondeva l'aria furtiva dentro un grosso zaino. Ieri, dopo il quarto colpo in due settimane e messo a segno all'interno del Conad, anche per loro è scattato l'arresto.